La dinamica è ancora al vaglio dei Carbinieri, ma dalle prime ricostruzioni pare che l'uomo di 46 anni, morto nella notte tra giovedì e venerdì intorno alle 12 e mezza, abbia perso il controllo della propria auto andando a schiantarsi contro un muro. Per l'automobilista non c'è stato nulla da fare, nonostante i tentativi dei soccorritori giunti sul posto con ambulanza automedica. L'impatto è avvenuto in Viale Toscana, all'altezza della Rotonda, sull'incrocio con Viale Boccaccio. Una tragedia che allunga la scia di sangue sulle strade del Varesotto, che giovedì pomeriggio hanno registrato il dramma di un uomo di 65 anni travolto dal proprio furgone a Ierago e tuttora in condizioni gravi.